E' stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Chieti in collaborazione con i colleghi di Cerignola in provincia di Foggia, il quarto componente la banda che ha assaltato lunedì mattina l'ufficio postale di Rapino. Rapina conclusasi con un rocambolesco inseguimento e con un conflitto a fuoco in cui è rimasto ferito uno dei carabinieri intervenuti per sventare il colpo. In manette finito Giuseppe Marrone, 27 anni, di Trinitapoli in provincia di Barletta, Andrea. Che il gruppo di rapinatori fosse composto anche da una quarta persona, i carabinieri lo avevano subito intuito sin dall'avvio delle indagini. Per questo le ricerche sono proseguite anche dopo l'arresto avvenuto due notti fa di tre componenti la banda confermati dai testimoni oculari e nonostante le avverse condizioni meteo di questi giorni. Il malvivente si era rifugiato accampandosi con un capanno di fortuna in un tratto di bosco nel comune di Villamagna, lungo la Val di Foro, a pochi chilometri dal luogo della rapina. L'accusa per Giuseppe Marrone, come per gli altri componenti la banda, è di rapina a mano armata, tentato omicidio, porto abusivo d'arma da guerra, spari in luogo pubblico e ricettazione.